Papa Francesco ha incontrato nella sala del concistoro del Palazzo Apostolico un gruppo di leader evangelici venuti a Roma per partecipare alla veglia di Pentecoste organizzata sabato pomeriggio al Circo Massimo per il Giubileo d'Oro dell'innovamento carismatico. Al termine dell'udienza ha salutato i partecipanti all'incontro. Grazie per questo che voi fate per lavorare per l'unità dei cristiani. Siamo come il Signore vuole, camminiamo insieme, facciamo l'aiuto ai poveri insieme, carità insieme, educazione insieme, tutti insieme. E che i teologi lavorino da parte scuola e ci aiutino, ma noi sempre in cammino, mai fermi, mai fermi, insieme. Questo è quello che io mi auguro e vi ringrazio perché io so che voi lo fate.